bentornati amici e bentrovati di nuovo sul canale del predone torniamo con un nuovo entusiasmante ogni tanto episodio su Expedition Roam allora eravamo al nostro campo in Gallia ora abbiamo come prima missione quella di andare ad incontrarci con due capi tribù che a detta loro ci dovrebbero aiutare nella conquista della Gallia ma non lo so perché come al solito a me me pare una mezza sola allora questa è la nostra mappetta della Gallia amici chiaramente ancora vuota vuota perché siamo appena arrivati ci dice da questa parte addirittura ah Narbonensis vedi che cos'è questo ma sono manco uscito manco partito capito manco partito già ti rompono manco sei partito allora 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 oggi la fortuna di sorridere anche da ste patto io c'è qui ancora tutt'entra vabbè andate arrozzamose tutto di solito lascio tutto sta botta me so azottato tutto me so me so scocciato per far bravo ora fa un po' di danni ah ma ne ho due la vendetta dei cinghiani ragazzi grazie eh you squee eh brace yourself non daremo mai no aspetta non finiremo mai a terra per colpa degli animali queste bestie oppure tutti quanti prendete quello che avete e correte per le vostre vite brace yourself altrimenti se qualcuno si fa male fidatevi guarda eh nasce non mi viene a fare una defensione e provare brum chi si è fatto male caeso boh non lo sapevo chi si fa male ancora vai se le stiamo inseguendo basta perché se no penso che morimo tutti allora andiamo subito all'infermeria ragazzi perché se no ci giochiamo caeso questo non è il nostro noi non l'abbiamo quindi triage tu sei un medico vai e Giulia tratta da te inventori ok abbiamo il libro boom oh buono l'arco di secondo livello che ci dovrebbe andare a dare delle ottime skill un ottimo arco per Giulietta per la nostra Giulietta per la nostra Giulietta nemmeno il fabbro a questo punto penso che sia esattamente vabbè usciamo facciamo passare il tempo affinché caeso e Giulia guariscano abbiamo perso delle relazioni non so perché intanto ci tolgono le relazioni boom abbiamo preso abbiamo preso una tunnel che guarisce questo dovrebbe essere la nostra amici perché vedo dagli stemmi si è la nostra è il nostro campo ragazzi andiamo un attimo in infermeria perché dobbiamo mettere si dopo ci andiamo a cercarle amico mio fammi mettere un attimino uno due e tre si ovvero il lavacrum buildiamolo immediatamente lo andiamo a buildare anzi no a upgradare wow due vasche a tre che chiurlo si divertiranno come pazzi i nostri regionari forse possiamo cominciare a recutare per la legione non ci andiamo vediamo se abbiamo qualcosa da costruire che cosa abbiamo in materiali centurione galea centurione multi by tucaeso allora perfetto amici abbiamo sistemato anche quella storia cose da vendere e comprare non ne abbiamo andiamo a vedere se possiamo rimpiazzare qualche prodottino che abbiamo ehi che fai non cammini mi sarei incognito il pg comunque o mi sarei incognito io o sarei incognito lui uno degli due di cosa abbiamo i materiali questo ecco a posto basta finito rega tutti a casa abbiamo finito abbiamo giocato abbiamo scherzato va bene così a posto Turio e ho capito Oreste Oreste Nano Oreste d'Eternano Oreste Nano 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 i confini rossi ora sono più chiari questa è la legge ferrata che non è la nostra ma la guida quel becero si nero sa bene la led allora qua ci dice fire party idelmeetinside si tu stai a pezzi amico mio quindi entro un campo con cioè ci mettiamo un altro saggitter che dite ci divertiamo con due arcieri a massacrare i nostri nemici allora siamo arrivati e sembra già che qualcuno ci sta aspettando vivius vitellius lurco dilizia lurco not now we can't walk after world di viziacus beware we told you don't want to ride the forest told it's your time to shine probably me don't want to but also I like it di viziacus vercingi torice pure ragazzi c'è anche il buon vercingi torice him him who provided the information now it seems for some reason this is precisely what you want ok amici abbiamo parlato con i tipi abbiamo stabilito che loro ci daranno una mano o meglio ci aiuteranno a capire chi è stato ad attaccare lì ci daranno una mano a investigare su chi possa essere stato ad attaccarci ora come altra come come nuova missione scusate amici abbiamo questo che cos'è non si capisce di andare ad attaccare di andare ad attaccare di andare ad attaccare poi la proverei muoverei scusate mi muovete swampedale non fai 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 capito stai non a fregare e va a fai capito ah andiamo subito a curarci va prima che first time the doctor vai curami curami amico mio sette nove otto dieci otto dieci otto dieci undici quattordici ma questa non è male amici eh non stavo vedendo battere il giudetto so battle ok andiamo bo 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 allora innanzitutto chi ci andiamo a mettere allora vediamo un attimo partiamo da questo legion enemy player enemy power mi sembra questo un attimino quello più più diciamo più azzeccato vai ci buttiamo il nostro buon uomo come si suol dire allora adesso come formazione mi ha poi 150 legge meno 150 però e faccio questa per forza vediamo come procede quelli sono sempre i soliti 28 che come entriamo in campo ruzzo non se fanno male le caglie hanno proprio da fare ma comunque sicuramente vengono quei eserciti più grandi in confronto a quelli incontrati fino ad adesso engagement allora abbiamo l'accerchiamento della cavalleria la carica e il tiro dei pila ecco non c'è da grandi bonus ecco non c'è da grandi bonus e abbiamo scardinato un'unità ottimo un'altra unità scardinata le nostre per il momento resistono teniamo la posizione abbiamo praticamente annientati ragazzi è la prima volta che mi capita non ve lanciate all'inseguimento che non c'è bisogno in quanti ne sono rimasti 100 no mi pare 500 unità ci avesse quindi non c'era tutta sta fretta di andargli accoppare ah abbiamo ricevuto un baule una cassa con delle pietre e un po' di soldini che i soldini non ci dispiacciono mai i soldini non ci dispiacciono mai perfetto party management out allora narbonensis la narbonensis questo ce la siamo presa intanto ma la nostra regione chiaramente deve tornare a casa che cos'è questo gagne di 50 punti experience ah qua non ci fossi quasi però stiamo attraverso eh children of the dead bene abbiamo incontrato delle persone abbiamo incontrato dei giovani dei ragazzi diciamo fondamentalmente che si stavano stavano abbandonando le loro case per andarsi ad arruolare con l'esercito di percinge torice e abbiamo dato delle decilazioni amici in generale aspetta ebbè non ho accettato vabbè so ci sta ci sta va bene così a noi ci è piaciuto così ragazzi oh andiamoci a prendere tutta questa bella robina amici questo dovrebbe essere un punto di osservazione immagino no un tesoro che tanto ci piace quindi c'è andiamo a prendere shield boss lost coin che è vino comune che cos'è questo niente le persone o no manckis giustizio non so quanti siano, attacchiamoli, vai ah bisogna ucciderne fino a che non si arrendono praticamente ragazzi, avete capito, tiro 4 declansing ragazzi, non ci si crede, non ci si crede ho perso questi, ma tanto ormai non si può fare, quindi partiamo dall'1 adesso bisogna buttare giù subito quelli che hanno poca energia, subito proprio ora ci hanno visto ma che palle questi cortelli questi però allora intanto già uno è andato poi devi dire qua se t'ho pure avvelenato poi vai dal bestia che viene e ti squarta del tutto ti apre come una gozza ti sventra proprio amica mia chi è? Track Track ti piace? quasi intanto voi venite su, sicuri seguri pe 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 non scusa la due oh 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 no ci fermiamo qua allora amica o mio vieni qua muori mia giulietta tocca che fai una strage qua sotto ma amica mia inchia ne può ammazzare manco uno altro che potrei buttarmi giù ma l'abbiamo mossa l'amichetto nostro perché lampeggia vieni qua non ti posso non glielo posso fare passiamo il turno dai che mi converebbe secondo me più attacca con lei perché mi do il volo scudo questo lo abbiamo sbragato e anche a te ti abbiamo sventrato e anche a te ti abbiamo aperto come una gozza giulietta 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 ok ce l'abbiamo fatta ragazzi grande ottimo 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 spettacolo spettacolo andiamo e questo a canna recupera tutto amici miei guarda quanta robina amici siamo usciti a sconfiggere la prima parte degli elvezi tramite qualcosa da fare qui no questo scusate ho sbagliato perdonate era una sorta di imbuscato qualcosa che avevamo trovato per strada ma non c'entrava niente con la missione no 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 perché se no c'è più amici schiaffi allora la nostra cara legione e a questo punto dovrebbe venire qua quindi ragazzi amici ci andiamo a fare questa battaglia e ci salutiamo come al solito ok abbiamo resistito al loro comandante Animal Racing, Animal Power, Player Aggression, Animal Power, Animal Power Animal Racing, Animal Power Animal Power Animal Power, Player Aggression, Animal Power questo mettiamo il il nostro Publio Sexy o Baculo il nostro Princeps che dovrebbe fare parecchi danni al nostro nemico ok la formazione a cuneo doppia linea estesa o attacco centrale nebulimento al centro scusate allora Player Aggression, Animal Power 125 rispondiamo con una formazione a cuneo amici qui sono i soliti 20-30 che entrano in campo ruzzolano e si fanno male noi stiamo a sventrare 500 ne sono rimasti i nostri feriti i nostri feriti i nostri feriti scusate scusate armi morale scusate armi morale questo ok amici eccoci qua arrivati al nostro campo ottimamente andiamo a mettere i feriti quindi caro Zineros te ultimamente me te stai a fa male ogni 3x2 sesto ho detto che è però siccome non ci avevamo messo nessuno amici il materiale ordinato chiaramente non è pronto per questo motivo vedete in coda c'è però manca un sacco manca manca del tempo perché non abbiamo avevamo studiato Tutankhamondag avevamo studiato il libro avevamo trovato un terzo libro quello si l'abbiamo fatto quello dell'arco Celta Celto scusate non so se siete il 100 o Celta Celto è che bov di terzo livello vedi 10, 12, 13 allora l'avevamo già scoperto e allora che l'avevamo scoperto niente Tattica vabbè è uguale possiamo chiudere abbiamo qualche strategia a mano ovo non credo no come voglio cosa dimostrare e niente amici allora come abbiamo detto dopo la battaglia saremo salutati e così facciamo io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi avete vi invito a seguire tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti in porto mi raccomando amici iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e anche agli altri social e niente amici ci vediamo al prossimo episodio ciao bradoni ciao 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 ciao